Scende in campo il vice sindaco Giovanni Antonio Popolo in merito all'estate vissuta da Ariano Irpino, non solo dai cittadini arianesi ma da tanti giunti da ogni parte. Il vice sindaco in un comunicato dice, in questi giorni la nostra città sta riacquisendo quella dimensione di vivibilità e di piacevolezza nel frequentare il centro storico. E' finalmente possibile passeggiare, ma l'assessore alla viabilità Giovanni Antonio Popolo non vuole entrare nel merito di qualche polemica che pure c'è stata sull'ordinanza traffico per il centro storico, ma guarda il bicchiere è mezzo pieno. Il rispetto deve essere certamente per gli automobilisti, per i commercianti ma anche per i pedoni. Dobbiamo tenere presente le esigenze di queste tre categorie. Abbiamo tentato, continua Popolo, con questa ordinanza traffico di ridare un segnale di civiltà e stiamo ricevendo apprezzamenti. Il senso unico in via Castello è un segno di civiltà nei confronti di quelle mamme con il passeggino dei bambini e di quanti vogliono raggiungere la villa a piedi. Ora lo si fa con tranquillità. I percorsi alternativi per le auto ci sono, via Guardia e Santo Stefano. La chiusura serale di via d'afflitto è particolarmente gradita, consente il passeggio da Piazza Prebiscito a Piazza Garibaldi e consente di godere della miriade di eventi in corso. Certamente, conclude Popolo, c'è necessità di incrementare le aree di parcheggio. Stiamo lavorando per questo risultato, ma intanto la città è di nuovo viva. Inopportuna e senza alcun senso appare la polemica dei commercianti del mercato ortofrutticolo che da domani e solo per una settimana torneranno al Piazzale San Francesco in occasione del Folk Festival che quest'anno si svolgerà in via Calvario. Si tratta di ritornare al Piazzale San Francesco solo temporaneamente, anche perché mercoledì 26 agosto torneranno ad esporre la loro merce sul Piazzale di via Calvario. Dunque, le polemiche possono tranquillamente essere rispedite al mittente perché non trovano un fondamento logico. Bisogna piuttosto insistere sulla consegna ai cittadini dell'intero parcheggio coperto. Ma questo è altra cosa. Ora è tempo di musica e divertimento, accogliendo con entusiasmo il Folk Festival, una rassegna di musica d'autore, tanto attesa e che contribuisce a portare Ariano alla ribalta internazionale.